Stiamo valutando le ultime situazioni, c'è il rientro di Capomaggio, abbiamo perso Ligi, Michele ancora è fuori per questa settimana, Jallob sta rientrando, non so se sarà nella lista dei convocati. Quindi in definitiva domani scioglierò le riserve anche in base a quello che ho visto, anche in base al momento dell'inizio della stagione e poi naturalmente credo e sono sicuro che chiunque andrà in campo andrà con entusiasmo e con la voglia anche di intanto mettere il massimo ma poi anche di giocare una partita importante perché sappiamo che dopo questo successo c'è anche entusiasmo e probabilmente troveremo anche lo stadio pieno. Quindi non dobbiamo fare l'errore di perdere l'umiltà ma dobbiamo fare invece crescere l'entusiasmo. Credo che la mentalità, l'ho detto, della squadra si è costruita nei tre mesi dello scorso anno e quindi attendiamo conferme. Sul mercato mi sono già espresso e sono contento, molto contento da tanti punti di vista, non solo per il valore dei calciatori che sono rimasti e che sono arrivati, ma anche per le qualità umane, per le caratteristiche proprio che secondo me e il direttore combaciano molto fra di loro e quindi da questo punto di vista siamo veramente fino a oggi soddisfatti. Poi sarà il campo a dire se tutto è stato fatto bene oppure se qualcosa o più di qualcosa va migliorato naturalmente sul campo.